mattino presto del 18 novembre 2017 la nasa banta di aver lanciato un altro razzo nello spazio di solito aspettano un minuto o due prima di passare dall'alimentazione del video al cartone animato provate a vedere se riuscite a contare fino a 15 dal momento del lancio al cambio video fate attenzione riuscite a vedere che sta già virando orizzontalmente ecco perché passano velocemente al video animazione vi ricordo che l'unica cosa che la nasa ha inviato nello spazio è la vostra immaginazione ma diamo un'occhiata a cosa pensano altri di questo no Oh La NASA prende ogni giorno 52 milioni di dollari per ingannare il mondo. Io non lo consento. E tu che fai?